Ed è stato consegnato a Lidia Menapace il premio Margherita Hac, assegnato dal comitato laici Trentini per i diritti civili. La vediamo, la Menapace è il premio alla persona laica dell'anno, ma in questo caso potremmo dire del secolo. Hanno detto della 95enne partigiana, sempre in prima fila nelle lotte per i diritti delle donne e del pacifismo. Sono un ex prof, un ex tante cose, ma non chiamatemi ex partigiana. Ha commentato la stessa Menapace, essere partigiani è una scelta di vita.